Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per perdita di carico tra incisare Gello e Firenze Sud in direzione nord. In A12 troviamo personale su strada per operazioni di ripristino incidente in uscita con le salvetti nelle due provenienze possibili disagi. Segniamo inoltre che sta piovendo sull'intero tracciato della Firenze Pisa Livorno, raccomandiamo di modellare la velocità. Uno sguardo al traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli per un nuovo allaccio alla rete del gas in via Giardino Serri Stori e lavori per una infrastruttura in via delle panche. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie.